Outback, ovvero il crossover di fascia alta secondo Subaru, si affina nelle forme ed abbina il primo motore boxer diesel al nuovo cambio automatico Lineartronic. Una trasmissione a variazione continua, che utilizza una catena invece di una cinghia, per permettere una maggiore efficienza e migliorare le prestazioni ad ogni regime di giri. Non mancano i pedals al volante, per offrire anche la modalità manuale a sette rapporti. L'azione è molto lineare, fluida e confortevole, ma reattiva nelle cambiate. Il motore è completamente diverso da tutti gli altri, possiamo definirlo il primo diesel non diesel, perché a lato pratico si comporta come un benzina, con emissioni di CO2 molto basse. Il 2 litri ha 150 CV, ma sembrano molti di più per come va. Aiutato da una coppia corposa e silenzioso, non vibra e tira come un forsennato con un'erogazione così irregolare che impressiona. Il tutto è abbinato alla trazione integrale e un'altezza da terra di 20 centimetri che gli consente di superare, senza problemi, un offroad leggero.